I capelli dei tuoi sogni. Io sono Rosi di Parrucchieri Revolution e mi occupo di salute e bellezza del tuo capello. Se vuoi saperne di più sui capelli, su come avere capelli belli, sani, forti, sempre, senza nessun miracolo, ma con costanza e ascoltando i nostri consigli, scaricalo. Revolution Way, come avere capelli sani, belli, forti, sempre. Lo puoi scaricare dal nostro blog, puoi andare a vedere tutte le nostre dirette, sia su Youtube, tutti i nostri video, su Facebook e sui vari social. I capelli dei tuoi sogni. Quanto è importante guardarsi allo specchio e piacersi? Quando ti guardi allo specchio ti piaci? Quando ti guardi allo specchio sorridi? Oggi, come le dirette che abbiamo già fatto e come le dirette che andremo a fare per tutto il mese di agosto, settembre, vogliamo affrontare sia io che Paolo, appunto nelle nostre dirette, un argomento che sappiamo che può influenzare profondamente la tua autostima. Il desiderio di avere i capelli dei tuoi sogni. Sì, proprio così, avere i capelli dei tuoi sogni. Il non riuscire a raggiungere questa cosa può veramente, in noi donne, perché sto parlando chiaramente di noi donne, può veramente creare una grossa barriera. Questo potrebbe essere veramente un grosso problema. Lo sapete che possono essere una criticità sulla nostra bellezza. Non avere capelli belli può minare un po' anche la fiducia che abbiamo in noi stesse. Spesso ci affidiamo, vi affidate, perché io mi affido a Paolo e alla Daniela e a chi fa parte del team Revolution, per cui non ho questi problemi, non ho queste problematiche. Spesso ci si affida in mani di parrucchieri, senza valutare fino in fondo quali possono essere i risultati finali. E questo incide proprio sull'autostima e sulla mancanza di fiducia in se stessi. Cosa voglio dire? Che ci si affida nelle mani di parrucchieri che sì, magari ti fanno un bel taglio, magari ti fanno un bel taglio che è anche alla moda, magari anche un bellissimo colore. Uno, un bellissimo taglio e un bellissimo colore devono fondersi insieme. Devono essere un complemento, uno dell'altro. Uno deve fare il taglio, deve fare un complemento al colore e viceversa. Il colore deve fare un complemento al taglio. Ma soprattutto il tuo parrucchiere deve farti sentire bella. Deve farti sentire fiduciosa in te stessa. In che modo? Non facendoti appunto un bellissimo taglio o un bellissimo colore, alla moda che sia, ma ascoltando quali sono le tue esigenze, ascoltando cos'è la cosa primaria per te. Se è la velocità, se è la praticità, se è avere sempre capelli lavorati dal parrucchiere. Quali sono le tue aspettative e soprattutto per far sì che il taglio ti renda bella e ti renda, ti ridia la fiducia in te stessa, ti ridia la tua autostima e il colore idem, devono essere creati su di te, devono essere creati sulla tua forma del viso, sui tuoi colori naturali. Solo così puoi ridarti la bellezza che hai. Solo così potrai sentirti bella. E se vuoi guardarti allo specchio e sorridere vedendo la tua immagine riflessa, non lasciare che i tuoi capelli ti portino verso il basso. Quindi contattaci 0371898900 oppure 3409973923 Noi ti daremo l'autostima che hai perso, ti daremo la fiducia in te stessa nel guardarti allo specchio e sorridere di quello che vedi riflesso. Mi raccomando, contattaci, affrettati, prendi un appuntamento per una consulenza. Ora ti saluto, ti auguro buon appetito e ci vediamo con la prossima diretta. Ciao!